Riprendiamo 610 dando il benvenuto a colei che dovrebbe teoricamente, almeno così c'è detto l'ufficio del personale della nostra azienda, entrare a far parte dello staff di 610 in qualità di vocalist, di gingolista, di voce istituzionale del nostro programma. Caro Lansaldi, le diamo il benvenuto. Buon pomeriggio, carola. Un po' ammalaggia. Un po' ammalaggia, va bene. Carola, come potete sentire, ha dei grossi problemi con le vocali, non riesce a... Su, però, su, però, va la va di minichisi. Non capito. Volava dire unichisi. Volava dire unichisi. Ah, volevi dire una cosa. Che in casa sboglio l'accento. Tu sbagli l'accento. No, sbagli l'accento ma sbagli proprio le vocali. Livi calo, livi calo. Su non malta in tinito. Su non malta in tinito. In tinito. Porcantiri. Ah, sei molto intonata. Ah, intonata. Si cantaro, si cantaro. Sa cantare. No, diciamo che, appunto, che Carlo Lansaldi dovrebbe essere la speaker di 610, è stata, diciamo, posso dirlo, raccomandata dai nostri dirigenti. Ha una gran bella voce, per carità, ma ha questo problema delle vocali che lo sbaglia tutte, per cui questo non so quanto può essere. Potrà cantiri. Su una canzano. Ah, potresti cantare una canzone, dici? Sa. Tipo, qual è una canzone che conosci bene? Vucchio fruc. Vucchio fruc? Che vuol dire Vucchio fruc? Vucchio fruc da Madigni. Da Madigni. Ah, Modugno. Sa. A Vecchio Frac. Su, su. A Vecchio Frac di Modugno. E però, il titolo va bene, l'hai detto male, ma la canzone la... Banissimi, banissimi. La canti bene? Lo sa, lo sa, lo sa, lo sa benissimi. La sai, la sai. Non ta fidi? No, mi fido, sentiamo, te accompagno io. Su. Mi sta facendo confondere anche a me adesso, però. Io, io, io volevo dire. Allora, Vecchio Frac di Domenico... Madigni. Modugno, Modugno. Cosa è che sembra? Sembra sardo antico. Sardo arcaico, sembra. Sardo arcaico. Sardo arcaico. È una lingua incomprensibile. Non è possibile. Ma tu capisci chi ha Vucchio fruc? Lo capisci? Sì, capisci se conosci Vecchio Frac, puoi intuire quello che stai dicendo. La masaca, la masaca. Però ti devi un po' allenare con ste vocali. Io non... Guarda, veramente... Vubbara. E mi dispiace, però veramente è un grosso problema questo delle vocali. Affa. Affa? Ah, uffa, sì. Non so proprio... Ci vuole tanto tempo. Bautati che non ha questa problemi. Come? Bautati che non ha questa problemi. Bautati. Bautati. Ah, beato me. Beato me. Da quanti li virai in Rodia? Quanto è che lavori in radio? Ma io saranno, beh, otto anni. Quasi otto. Ma... Sì, sì. Ma sei fesso? Perché so fesso, scusa? In Rodia? Sei fesso? In radio sono fesso. Perché? Non ho capito. Sei fesso? Lavoro fasso? Ah, fisso. Se sono fisso. Sì, sì. Ma sì, siamo fissi. Siamo a Greg, Alex Braga. Siamo fessi. Fissi. Andiamo avanti con Senu Zero. Ciao Lollo. Lillo. Lello. Lillo. Lalla. Lillo. Greg. Vabbè, ciao.